Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della coppia Capricorno-Ariete in amore. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, sono due segni Capricorno e Ariete molto diversi, ma nello stesso tempo complementari. Il tutto consiste nell'accettare la complementarietà. Sul piano sentimentale affettivo, sul piano amoroso, è necessario un compromesso, altrimenti la coppia non funziona, perché non vanno allo stesso ritmo. L'Ariete è molto più impulsivo, veloce, nervoso, il Capricorno invece è più calmo, più rilassato. L'Ariete tende a vedere il Capricorno in amore come freddo, mentre il Capricorno tende a vedere l'Ariete un po' come isterica, infantile, un segno capriccioso. Ovviamente è una coppia che si può formare, il tempo aiuterà a smussare gli spigoli, però devono veramente imparare ad apprezzare quelle che ritengono imperfezioni dell'altra persona. Se la coppia riesce ad amalgamarsi, il Capricorno potrà contare sull'energia dell'Ariete e l'Ariete potrà contare sull'affidabilità del Capricorno per una coppia su cui bisogna lavorare. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!